salve a tutti ragazzi sono inferno 86 e sono qui oggi in un mio nuovo video per portarvi in anteprima sul mio canale fate su silence si ragazzi questo nuovo gioco appena uscito di sopravvivenza estrema ragazzi questo è un gioco horror di sopravvivenza dove dovremmo affrontare dei mostri sopravvivere procurarci la legna il cibo cacciare quindi dobbiamo andare in giro esplorare la mappa costruire il nostro accampamento salvare altri sopravvissuti che ci daranno una mano nel proseguire del gioco io spero che questo gioco vi possa interessare ragazzi è una novità è appena uscito da poco saranno quattro giorni tra quattro giorni e niente ragazzi direi di partire subito io sono già partito in modalità esplorazione giusto per capire un po il gioco com'è però inizierò con voi la modalità sopravvivenza abbiamo due modalità queste due modalità sono diverse l'una dall'altra nel senso che modalità esplorazione avremo molte più cose solo che è molto più lungo il gioco da affrontare invece sopravvivenza avremo meno risorse meno opportunità e sarà molto ma molto più difficile quindi ragazzi io voglio iniziare insieme a voi sono le le otto e un quarto del mattino quindi ho deciso di registrare abbastanza presto perché sono a caricare ci piega una botta quindi niente ragazzi partiamo io direi di partire in nuova partita quindi si salvataggio verrà sovrascritto ok vedete abbiamo due modalità ragazzi esplorazione e ci sono meno difficoltà e invece abbiamo sopravvivenza dove comunque ci sono mostri più letali più ci sono meno risorse meno cose io partirò con questo perché voglio iniziare proprio diciamo il l'avanzamento del gioco in modalità estrema proprio insieme a voi quindi partiamo ragazzi spero che vi possa piacere il video come sempre condividete e spolliciati mi raccomando questa volta ho messo la telecamera ragazzi anche se sono un po rincoglionito ok ragazzi come avete visto c'è un demone che è dentro il personaggio principale che ci romperà le scatole diciamo è quello che comanda tutto il mondo noi siamo in un mondo post apocalittico dove non c'è più niente ci sono solamente questi mostri che vengono comandati da questo demone che abbiamo dentro il nostro corpo le armi e gli oggetti utili dobbiamo crearceli ora infatti non abbiamo armi un un'unica arma che abbiamo è questa qua che proveremo adesso ed è una torcia che ha un consumo dopo un tot finisce dopo un tot che la usiamo possiamo usarla sia per scaldarci che per difenderci dei mostri il gioco è molto bellino ragazzi in modalità non ci faccio niente come mai ok devo usare l'attacco pesante qua ci sono dei mostri congelati ragazzi purtroppo abbiamo una barra di adrenalina che si consuma molto facilmente però vedo che qua sale molto più in fretta che nel nell'esplorazione ora dobbiamo salvare nostra figlia ragazzi ho una figlia non sapevo neanche di averla e ho una figlia ragazzi dovremmo salvarla per liberare l'accampamento da questi mostri poi vi spiegherò un po' di cose ragazzi io come dico l'ho già provato per vedere un po' come funziona ora c'è uno dei tanti mostri che sembra a mio parere sembra venom la barra si ricarica molto più in fretta ragazzi questo ci fa male se ci prende ora gli spacchiamo il culo a colpi belli forti perfetto ora qua si dovrebbe aprire il tutto non è vero arriva questo marrano 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 ragazzi marrano qua abbiamo queste cose che ci danno fastidio dobbiamo oh 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 non mi ricordavo che c'era anche questo qua questo è una verità malticcio malviticcio ora dobbiamo ripulire ragazzi premendo A a manetta io uso un controller xbox ragazzi perché con mouse e tastiera sono un fan a sega spero che si senta tutto bene l'audio sia la mia voce che l'audio del gioco spero che mi vediate anche bene visto che vi sto riportando la telecamera ok abbiamo salvato nostra figlia ragazzi quindi la nostra storia noi abbiamo un passato che dobbiamo scoprire piano piano con l'avanzare del gioco non so se ho una moglie non ne ho proprio idea penso di avere solamente una figlia che devo proteggere devo stabilire un accampamento qui nella zona andare in giro a cercare legna e sopravvivere ragazzi quindi eccoci qua questo è il nostro accampamento intanto vi procuro le poche erbe che ci danno qua vicino questo qua serviranno un po' per ora vi faccio vedere un paio di cose ragazzi giusto per questo è il nostro accampamento dovremmo costruirci delle capanne per gli altri sopravvissuti che troveremo abbiamo una vista una sorta di occhio dell'aquila come Assassin's Creed premendo il grilletto possiamo vedere le risorse che non sono state contaminate quindi infatti come potete vedere in fondo ci sono delle luci azzurre quali sono delle risorse che sono disponibili ma non mano che noi andiamo in giro per la mappa possiamo cliccare questo diciamo chiamiamo l'occhio dell'aquila per vedere le risorse dove sono nascoste in giro ci saranno tanti nemici che ci romperanno le scatole ora ragazzi dobbiamo vedere se possiamo curarci no possiamo accendere il falò ma ancora io non ho legna e qua nelle scorte abbiamo solamente una cura che mi porterò e adesso le lascio tutte giù allora abbiamo un menu ragazzi abbiamo il manuale di sopravvivenza che ci spiega come fare le cose basilari saltare resistenza combattimento corpo a corpo e tutte le altre cose che potete vedere qui abbiamo il nostro inventario dove abbiamo quello che ci portiamo dietro in più possiamo mettere possiamo creare una volta fatti i materiali il falò che sarebbe per riscaldarci un riparo d'emergenza che possiamo portarci dietro in caso di tempeste e cose varie le cure il cibo i vestiti ragazzi armature armi l'arco il piccone il piccone l'ascia che ci serviranno per raccogliere le risorse il gioco ragazzi è molto difficile oltre a a esserci comunque i mostri ci sarà anche la tormenta di neve che arriverà a romperci le scatole quindi dovremo sopravvivere cercare riparo perché se no moriamo congelati potete vedere là io ho del congelamento in alto alla vita in alto a sinistra se quel congelamento lì ricopre tutta la barra dove non ho salute diciamo che sono fottuto in poche parole ora ricopriamo queste quattro risorse che si trovano al di sopra del della nostra base del nostro diciamo rifugio improvvisato è aperto è aperto e abbiamo un po' di di aria che ci viene dentro allora queste cose qua io lascerò giù ragazzi per non occupare spazio li metterò qua direttamente e andrò a fare un po' di legna giusto per farvi vedere un po' come funziona cioè vado a raccogliere ancora non posso spaccare la legna perché non ho non ho niente allora la torcia la possiamo usare sia come difesa sia per riscaldarci ci tiene caldo mentre andiamo in giro a scoprire la mappa però ha un consumo quindi si consumerà dobbiamo stare attento ai nemici ragazzi quindi dobbiamo crearci tutto come potete vedere qua ci sono dei degli alberi che però non possiamo raccogliere perché sono corrotti purtroppo dobbiamo trovare solamente vedete facendo con l'occhio così vedete là in fondo ci sono degli alberi che possiamo utilizzare solo che io adesso lascio non ce l'ho nemmeno l'arco per cacciare quindi devo trovare le risorse che si trovano ai piedi degli alberi tipo legna già battuta oppure piante per mangiare e curarci o per creare altre cose per creare altre cose ok io prenderò tutto quello che trovo adesso all'inizio io vi faccio un piccolo video iniziale per farvi capire anche il gioco com'è ora andremo vabbè i mostri li avete già visti ora andiamo di qua ragazzi a recuperare quattro cose giusto per avere già un po' di materiali a disposizione abbiamo diversi tipi di piante alcune ci serviranno per curarci alcune per mangiare alcune per le stesse che useremo per curarci ci serviranno anche per creare dei materiali per creare armi e cose varie qua abbiamo un una sorta di non lo so turbine temporale chiamiamolo così ogni tanto troveremo questo passaggio qua uscirà il demone che ci dirà delle frasi molto carine e ci lascerà un pacchetto dove ci saranno degli oggetti utili scusate per progredire con l'avanzamento del gioco ce ne sono in giro veramente pochi e dovremmo andare avanti ragazzi così abbiamo una bella mappa grande vedete la mappa è gigantesca tutti questi posti qua sono degli accampamenti che sono corrotti qua abbiamo eclisse che è un un'isola capovolta all'ingiù con tanti tentacoli che ogni tanto cercherà di ammazzarci lanciandoci giù delle macchine dei pezzi di palazzi e cose varie qui abbiamo la mappa dove siamo adesso ragazzi questo è un rifugio questa è la nostra base se non mi sbaglio se qua c'è la zona di caccia qua la zona dove andare a recuperare il legname e cose varie questi qua sono i punti di interesse abbiamo anche una leggenda scusate che ci dirà cosa servono tutti gli affarini che compariranno sulla mappa niente ragazzi adesso io posso anche chiudere quel video non voglio far durare più di tanto perché se no ci pede una vita a caricarlo andremo avanti farò diversi episodi quindi vi farò vedere come cacciare come procurarsi altri materiali come costruire come recuperare la legna ammazzare i mostri liberare i campi e cose varie avremo tante tante cose da fare quindi ragazzi spero che il video vi piaccia il gioco vi piaccia e niente ragazzi mi raccomando rimanete sintonizzati ora lascio giù un attimo tutte le scorte che ho trovato un pezzo di legno ok perfetto e niente ragazzi io chiudo quel video spero come sempre che il video o comunque il gioco vi possa interessare come sempre vi ricordo di spolliciare condividerò ogni mio video sui social come sempre saluto tutti i miei infernali tutti quelli che guardano questo video si iscriveranno al mio canale mi metteranno mi piace naturalmente ed è inferno86 tutto alla prossima